Sinistra Ecologia e Libertà di Taranto fa il punto della situazione dei problemi del capoluogo ionico, in particolare l'onorevole Donatella Duranti, che elenca le situazioni critiche in una città duramente colpita, soprattutto sotto il profilo occupazionale ed ambientale. Le crisi, quelle dell'ILVA, dell'arsenale di Taranto, Teleperformance, Isola Verde, l'Istituto Paesiello, e poi il Cement, il Marcegalle, insomma sono numerosissime e sono oramai diventate drammatiche. Il tema è che o si affronta in maniera globale, con un approccio complessivo, la crisi di Taranto oppure non se ne viene fuori. Eppure, sostiene la rappresentante parlamentare del partito di Nichi Vendola, Taranto è e deve essere al centro dell'attenzione nazionale. Taranto è Italia e l'ILVA contribuisce ad aumentare il PIL del nostro paese. Il tema è però che le ricadute negative dell'ILVA sono tutte sui cittadini e le cittadine di Taranto e sui lavoratori che lì dentro vivono ogni giorno.